E' stata scritta una pagina di legalità, ha scritto in una nota il sindaco di Barletta in riferimento allo sgombero avvenuto ieri delle palazzine realizzate a ridosso dell'ex distilleria occupate abusivamente sin dal 2009. A buoni motivi cascella per essere soddisfatto, quella situazione era da tempo inaccettabile e noi stessi abbiamo più volte accusato sia l'amministrazione precedente che l'attuale di colpevoli ritardi e di inerzia. Quegli alloggi di proprietà comunale destinati a residenza di anziani non abbienti erano occupati abusivamente da oltre sei anni, ledendo il diritto degli assegnatari e determinando una situazione di illegalità non più procrastinabile. Ieri, dopo un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto oltre al sindaco l'assessore alla Polizia Municipale Marcello Lanotte, il comandante Savino Filannino e la Prefettura, lo sgombero operato con professionalità ma anche con la doverosa sensibilità umana, grazie a un'azione coordinata di Polizia Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Comunale e Provinciale, evitando, come scrive lo stesso Cascella, che le tensioni esplodessero con gravi conseguenze. Quasi tutte le famiglie sgomberate avevano già trovato soluzioni abitative, solo tre nuclei familiari sono stati alloggiati provvisoriamente presso l'Istituto Angioletto, dove potranno restare per non più di 30 giorni. In una stanza di tal istituto alloggeranno anche alcuni dei fermati che, avendo precedenti, non sono stati rilasciati ma costretti ai domiciliari. Il comune di Barletta si era detto disponibile a versare un contributo a chi avesse lasciato spontaneamente gli alloggi in modo da favorire i loro contratti di locazione. Risolto una questione, lo sguardo ora, anche leggendo i commenti sui social network, si rivolge all'altro problema di inaccettabile illegalità ed è il Campo Rom sul prolungamento di Via Barberini, del quale ci siamo già più volte occupati, anche ironicamente con il comico Pinuccio, ormai completamente circondato dai palazzi delle cooperative e che rappresenta un gravissimo impedimento al completamento di opere pubbliche come l'adiacente parco e l'allargamento della strada che porta alla 16 bis, oltre che una bomba igienico-sanitaria che anche la ASL finge colpevolmente di non vedere. L'amministrazione pare abbia finalmente trovato una soluzione che prevede la realizzazione di un campo attrezzato nei pressi di Viandria, ma è necessario dare una decisiva accelerazione a tutta l'operazione e risolvere una problematica che sta esasperando soprattutto i residenti. Sotto l'aspetto politico, importante l'incontro avvenuto nella serata di ieri tra i consiglieri comunali, gli assessori e i riferimenti comunali e provinciali delle forze di maggioranza. Il sindaco ha voluto incontrarli per relazionare sugli accadimenti che hanno portato alle sue dimissioni e per un chiarimento esaustivo che, dopo il documento di fiducia già sottoscritto da tutti, consenta, nel Consiglio Comunale già convocato per lunedì 13, l'approvazione del bilancio di previsione è ritenuto la cascella il vero atto di fiducia che lo indurrà al ritiro delle dimissioni. E' bene ricordare che il termine ultimo per tale ritiro è martedì 14, cioè il giorno successivo il Consiglio. L'incontro, nonostante diverse assenze e qualche residuo di acidume politico, è stato positivo. Presumibilmente la maggioranza prima del bilancio e dopo le comunicazioni di cascella presenterà il documento già sottoscritto per un voto di fiducia ufficiale in Consiglio Comunale.